La domenica che precede il Marte di Grasso ha regalato allegria e divertimento a grandi e piccini che hanno assistito a sfilate di carri allegorici e manifestazioni nelle varie piazze valdianesi. A Sala Consilina è tornato ad allietare le strade il Carnevale Storico Salese. Gli allegri e colorati carri allegorici hanno fatto una prima sosta a Trinità nel piazzale Quadrifoglio per poi proseguire verso Piazza Umberto I dove ad attenderli c'erano tante mascherine munite di coriandoli e stelle filanti. Una giornata di allegria e spensieratezza vissuta non solo dai più piccoli ma anche dagli adulti molti dei quali hanno potuto almeno per un giorno mascherarsi e tornare bambini. La lunga giornata di Carnevale è proseguita tra caccia al tesoro, giochi e balli. Non è mancata la rappresentazione dei 12 mesi dell'anno ed il falò della vecchia ed in serata pasta e ceci per tutti. A Polla ancora una volta il sindaco Rocco Giuliano è salito sul galeone dell'associazione I Nicolini che guidava il corteo che ha attraversato le strade del paese nel pomeriggio di ieri. E se Giuliano è salito sul galeone con giacca e cravatta, il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio invece lo ha fatto in perfetta tenuta da pirata. In entrambi i paesi le strade sono state inondate dalle maschere con bambini ed adulti in festa fino a sera. Sanse e Pertosa scelgono una rappresentazione diversa del Carnevale con rievocazioni e pantomime all'insegna del divertimento che hanno coinvolto la popolazione. Anche ad Atena Lucana grande festa per le strade del paese con numerosi carri allegorici ispirati ai personaggi di animazione ma anche con maschere ispirate a temi di attualità.